Quest'anno è frutto forse un po' della pandemia, per cui ho riflettuto su quante serie televisive abbiamo visto, da quando ovviamente io le vedo anche da prima, ma insomma quest'anno con la pandemia le serie televisive sono state delle compagne e quindi abbiamo fatto un programma che cerca proprio di fare il punto su cosa è la musica dentro il racconto lungo delle serie televisive e quindi musicisti che pure vengono normalmente dal cinema, ma che nell'approccio alle serie televisive cambia sia la lunghezza sia le musiche derivate, cioè dallo stesso tema si fanno due, tre, cinque versioni, cinque arrangiamenti e questo è un lavoro tecnico musicale che non è solo di ispirazione ma è molto di mestiere, per cui mi sembrava molto interessante indagare questo, ma poi dentro c'è un gran lavoro anche tecnico, quindi di riadattamento, di riscrittura, di nuove musiche, per cui è interessante ed è interessante anche per me, per cui avrò l'occasione di capirci anche qualcosa di più del loro lavoro. Abbiamo sempre questo rapporto forte col centro sperimentale, per cui in questo progetto di riconnessione un po' della filiera del suono, portiamo i montatori, portiamo quelli che studiano suono, portiamo i registi che devono in qualche modo avere un'idea musicale dall'inizio alla fine prima ancora di iniziare il film, come hanno un'idea scenografica, un'idea di attori, un'idea di location e poi i musicisti, gli aspiranti musicisti, per cui ne abbiamo di più quest'anno perché abbiamo fatto dei corsi con questo progetto Campus, che è un progetto di sperimentazione della possibilità di avere proprio una sorta di sede dedicata allo studio del suono e della musica per il cinema. C'è un graditissimo ritorno che è Nada, che viene raccontata in un film, ma poi soprattutto dà vita a quella sessione a cui io tengo molto, che è il rapporto delle canzoni, quei film, e per cui le sue canzoni sono andate in film importanti, quindi canterà anche, ci sarà anche un suo concerto, ma soprattutto il film che parla di lei parla proprio della sua vocazione a diventare cantante.